Guardate, ho un Raspberry Pi in mano! Sensazionale, vero? Guardate, guardatelo bene, guardatelo, guardatelo, guardatelo E con questo dimostrerò che un video stupido farà molte più visualizzazioni di un video ben curato con cui ci hai perso un sacco di tempo Se siete veramente interessati a vedere qualcosa di figo sul Raspberry Pi, continuate a seguire i miei video Pubblicherò presto delle chicche interessanti